ok mi sentite tutti buonasera a tutte e tutti vi ringrazio fin da subito per essere qui alla presentazione di questa importante inchiesta che è stata pubblicata sull'ultimo numero di altre economie svelo subito il titolo così capiamo immediatamente di che cosa stiamo parlando fine pillola mai inchiesta sull'abuso di psicofarmaci nelle carceri italiane tra salute mentale controllo della popolazione detenuta che contiene dati inediti da 15 strutture prima di presentare brevemente queste inchieste poi lasciare la parola alle persone che diciamo agli auto all'autore e alle altre persone che hanno collaborato a questa inchiesta ringrazio appunto i presenti vi presento scusate la ripetizione di parole le persone che sono presenti qui con me parto dal parto dall'onorevole riccardo magi che ringraziamo per aver come dire concesso questo spazio per presentare questo spazio importante direi per presentare questa inchiesta quella mia destra c'è luca rondi che giornalista di altre economie nonché autore dell'inchiesta che stiamo per presentare ancora più a destra c'è Alessio Scandurra coordinatore dell'osservatorio sul carcere di Antigone che probabilmente tutti conoscerete ma un'associazione che fin dagli anni 80 si occupa di diritti e garanzie del sistema penale in Italia mentre collegato c'è Michele Miravalle sempre coordinatore dell'osservatorio sul carcere di Antigone e nel corso della conferenza stampa ascolteremo anche il commento la voce di Fabrizio Sarace presidente della società italiana di epidemiologia psichiatrica prima di lasciare la parola a Luca ne approfitto per diciamo come dire introdurre molto brevemente questa inchiesta perché poi sicuramente Luca entrerà nel merito e nel dettaglio ci tenevo però a dire a dire due cose eh primo ho detto un'inchiesta importante lo penso davvero perché presenta dei dati inediti eh dei dati inediti che ci permettono di eh avviare una riflessione direi eh informata e e anche poi sistematica su eh che cos'è la la salute mentale all'interno delle carceri in Italia e più in generale aprire tutta una serie di interrogativi sull'utilizzo degli psicofarmaci all'interno delle strutture carcerarie eh italiane do solo un dato che è il più diciamo il più il più grosso che emerge poi sicuramente Luca Rondi entrerà nei nei particolari secondo i dati emersi da queste quindici eh strutture il consumo di psicofarmaci e in particolare di antipsicotici che sono eh di psicofarmaci che vengono utilizzati per curare eh i principali disturbi psichiatrici è cinque volte superiore all'interno delle carceri rispetto alla popolazione generale questo è diciamo il macro dato di sintesi eh che poi verrà sicuramente eh approfondito ed è un dato che richiede appunto un una riflessione e un ulteriore eh approfondimento e appunto questi dati quindi ci permettono di andare un po' oltre eh le le notizie che in realtà noi eh sentiamo anche nella vita di tutti i giorni abbiamo purtroppo raccontato anche come giornalisti notizie di suicidi in carcere nei mesi scorsi a volte sentiamo eh non so le proteste di chi lavora nelle carceri per quanto riguarda la sicurezza tutte queste eh informazioni ci arrivano ma non abbiamo mai la capacità come dire di rielaborarle di prendere coscienza rispetto a ciò che che sta succedendo dico le ultime due cose eh questi dati questo macro dato che vi ho citato eh ora non so se è eh di cinque volte superiore o se cambia leggermente però eh come dire la la differenza è più o meno la stessa non avviene solamente negli istituti per per adulti nelle carceri per adulti ma avviene anche negli istituti penali per minorenni e forse mh questo elemento ci interroga ancora di più perché proprio come dice eh il il titolo fine pillola mai gli effetti dell'utilizzo eh a lungo termine di questi psicofarmaci e magari anche in in dosi un po' più elevate possono come dire avere delle conseguenze che sono eh forse più a lungo termine anche del dei tempi del della pena che viene che viene data quindi possono avere delle conseguenze più a lungo termine forse sui minorenni sono anche più più incisivi. Chiudo tornando su sui dati io penso che questi dati e anche come costruita questa inchiesta con questi dati siano un sicuramente uno strumento di denuncia ma anche proprio uno strumento a tutti gli effetti che viene consegnato a chiunque legga questa 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 inchiesta e forse anche a chi ha le responsabilità eh concrete le responsabilità politiche di eh appunto utilizzarli come strumento di comprensione e e poi anche di come dire di di azione e passo però ora la parola a a Luca Rondi che è l'autore dell'inchiesta e giornalista di altra economia. Grazie mille Elenia eh grazie mille anche e soprattutto all'onorevole Riccardo Maggi. Sei mesi fa eravamo qua in questa sala a presentare un'inchiesta del titolo rinchiusi e sedati che provava a quantificare l'utilizzo degli psicofarmaci nei centri di permanenza per il rimpatrio ecco fine pillola mai possiamo dire che è un po' lo spin off di quell'inchiesta e purtroppo arriva a conclusioni seppur in strutture completamente diverse ehm a conclusioni molto simili ovvero proprio eh un sovrautilizzo un abuso di psicofarmaci. L'inchiesta eh si basa sull'analisi delle formenture di farmaci a quindici istituti italiani eh di diverse dimensioni quindi abbiamo grande strutture Napoli Poggio Reale, Lorusso Cotugno di Torino eh San Vittorio a Milano e poi strutture più piccole Udine, Firenze. Strutture che si trovano su territori diversi perché era anche importante andare a vedere se vi erano differenze da regione a regione strutture diverse per tipologia quindi sia case circondariali sia case di reclusione dove quindi vi sono detenuti la popolazione detenuta è un po' più eh stabile. Ebbene la spesa totale in psicofarmaci è di quasi quattrocentosettantamila euro su questi quindici istituti se proiettata sull'intero della popolazione detenuta il campione era circa di dodici mila cinquecento detenuti se proiettata sul totale parliamo di due milioni di euro spesi in psicofarmaci nel duemilaventidue per le strutture italiane. I nomi che ricorrono di più nelle forniture di farmaci che abbiamo eh analizzato anche con l'aiuto di di Antigone sono il paliperidone, il prazodone, l'olanzapina, la quietapina. Sono nomi difficili, sono nomi di antipsicotici che sono eh farmaci che dovrebbero essere utilizzati per gravi disturbi come la schizofrenia e il disturbio bipolare. Ebbene nel duemilaventidue nell'istituto milanese di San Vittore abbiamo stimato che a persona ehm è stato speso ottantatré euro in antipsicotici, un aumento del centottanta per cento rispetto a quattro anni prima nel duemilaventiciotto. Un aumento che registriamo anche tra gli altri allo russo Cotugno di Torino. Tra il duemilaventiciotto e il duemilaventidue la spesa a persone in antipsicotici è aumentata del settantaquattro per cento. In altri istituti questo valore diminuisce in realtà ma partendo insomma da dati molto elevati. È il caso di Santa Maria Capuavetere dove nel duemilaventidue si è speso più o meno trentun euro a persona. Dati più bassi invece li registriamo a Milano Bollate, sette euro a persona. Milano Bollate è considerato da molti un fiorello occhiello al sistema e ci fotografa anche quella differenza territoriale di cui vi parlavo prima e soprattutto della differenza tra struttura e struttura. Abbiamo chiaro quindi che varia molto da carcere a carcere l'utilizzo e la prescrizione di farmaci ma quello che emerge eh dai dati pubblicati ehm è che la maggior parte della spesa in antipsicotici eh ma questo non è un dato esaustivo perché gli antipsicotici costano di più degli altri farmaci come gli ansiolitici e sedativi. Il punto è che se confrontiamo la spesa in antipsicotici a persona all'interno della struttura delle strutture carcerarie e nella popolazione generale consultando i dati del rapporto AIFA annuale che è l'agenzia italiana del farmaco ebbene scopriamo che appunto in antipsicotici a persona dentro si spende cinque volte di più rispetto all'esterno. Secondo Antigone però la percentuale di popolazione detenuta che ha una grave patologia psichiatrica si ferma al dieci per cento quindi o questa stima da questa stima scappano alcune ehm diagnosi a carico dei detenuti oppure l'utilizzo di antipsicotici che ricordiamo sono psicofarmaci molto pesanti tra virgolette nel senso che vengono utilizzati per gravi patologie allora questo utilizzo forse non è così eh giustificato quantomeno da una diagnosi. Abbiamo provato anche un secondo metodo perché sono dati difficili da leggere sono dati complicati e volevamo provare a dare eh insomma forza alla nostra alla nostra tesi a quello che emergeva e così abbiamo anche provato a stimare quanto si spendeva sempre a persona ma non sulla popolazione generale ma su quei detenuti eh rispetto a cui l'amministrazione penitenziaria dichiarava che forniva degli psicofarmaci nello specifico degli antipsicotici eh con questo confronto sempre grazie ad Antigone eh a dati forniti da Antigone nuovamente il rapporto tra popolazione generale tra utilizzo di antipsicotici nella popolazione detenuta e generale è nuovamente di cinque volte superiore. Che cosa ci dicono questi dati? Eh sono un po' la fotografia ehm del malessere eh che oggi noi troviamo nelle carceri italiane eh dall'inizio del duemilaventitré sono cento ventuni morti e cinquantatré ehm i suicidi eh e la salute mentale eh diventa sempre di più un tema centrale no? Tutti ne parlano tutti ne parlano eh ma ci sono scarsi dati c'è scarsa attenzione. C'è scarsa attenzione anche perché in quelle strutture le cosiddette articolazioni per la salute mentale aperte dall'amministrazione penitenziaria proprio per garantire una maggiore attenzione a quei detenuti che mostravano delle vulnerabilità eh spesso eh vi è ancora meno attenzione. Cito il caso di Azzurra Campari eh si è suicidata il 12 agosto a Torino allo Russo Cotugno a poche ore di distanza ehm lo ha fatto Susan John. Loro erano in delle celle eh in cui venivano detenute le persone con maggiore vulnerabilità psicologica proprio per essere osservate al meglio. Ebbene purtroppo anche quell'attenzione lì evidentemente non era abbastanza. Secondo Antigone la quantità di ore eh di servizio settimanale degli psichiatri è di 8,75 ore ogni 100 detenuti. Per quanto riguarda gli psicologi siamo a poco più del doppio 18,5. Ecco queste ore, questa scarsità di intervento da parte delle figure professioniste che devono occuparsi di salute mentale si scontra come dicevamo con un elevato utilizzo di farmaci che proprio per la loro eh insomma per il loro profilo per le malattie per cui vengono utilizzati dovrebbero eh essere maggiormente attenzionati e inseriti all'interno di un piano terapeutico. Purtroppo questo problema lo riscontriamo anche negli istituti eh penali per i minorenni eh la spesa pro capite in antipsicotici quindi stesso farmaco stessa categoria terapeutica tra il duemila ventuno e il duemila ventidue è aumentata del trenta per cento. Se prendiamo il carcere in media è aumentata dell'un per cento. Quindi noi abbiamo negli PM una grave emergenza di utilizzo di questi farmaci. Farmaci che rispetto a cui l'utilizzo all'interno degli PM è ancora più criticabile perché come insomma hanno commentato diversi esperti che ci hanno aiutato nel leggere questi dati eh è chiaro che gli effetti che può avere uno psicofarmaco sul sistema nervoso centrale che ancora in via di sviluppo possono essere molti più gravi e ricordiamo che a marzo duemila ventitré centottanta persone su trecentottanta detenuti in IPM erano minorenni ehm a Torino la la spesa pro capite è aumentata del trecento per cento in due a cavallo di due anni a Milano del duecento venticinque per cento Roma Casal di Marmo le presenze diminuiscono della metà la spesa in antipsicotici aumenta di dieci volte eh quella media di cui vi parlavo prima è in realtà una stima a ribasso perché tra i dati che abbiamo analizzato c'è anche quello di Nisida a Napoli che ha dichiarato di aver speso zero euro in antipsicotici nel duemilaventidue ecco questo zero euro può avere due letture o la la psichiatria insomma eh si impone a un approccio molto rigido nel non fornire psicofarmaci ma allora verrebbe da chiedersi se in una struttura riusciamo a gestire quella popolazione senza psicofarmaci perché non ce la facciamo nelle altre ehm oppure eh insomma mancano dei dati o vi è una fornitura eh a cui altra economia non ha avuto eh accesso. Gli operatori degli istituti raccontano delle difficoltà che hanno eh proprio nel gestire eh queste strutture e insomma chi mi seguirà proverà anche a dare uno spaccato più preciso proprio sugli IPM. Eh abbiamo provato a confrontare i dati che avevamo ottenuto chiedendo dei dati anche al Ministeri degli Interni della Giustizia francese, tedesco e spagnolo. Eh ci ha risposto il Ministero spagnolo eh il purtroppo il dato che ci ha fornito non è comparabile con il nostro ma è estremamente rilevante che in Spagna ogni anno viene pubblicata una relazione, in cui ci sono i dati dei consumi a persona degli antipsicotici. Abbiamo chiesto un intervento al Ministero della Giustizia eh proprio per insomma avere spiegazioni rispetto ai dati che avevamo ehm in qualche modo ottenuto ma non abbiamo ricevuto risposta. Ecco allora che davvero su questi temi nuovamente il lavoro di inchiesta che abbiamo svolto in questi mesi grazie ad Altra Economia che è una realtà piccola ma ce la mette tutta insomma per per fare un giornalismo di qualità forse dovrebbero arrivare anche eh da chi ha la la competenza e di chi su questi temi ha la responsabilità di attuare eh insomma in questo caso una presa in carico delle persone detenuta detenute dignitosa. Eh insomma la gabbia rappresentata eh eh splendidamente da Nicola Ferrarese eh nella copertina eh il titolo fine pillola mai ci ricorda come accennava prima Ilenia Sina eh che questo tema è urgente perché non è solo una questione del tempo presente che vivono i detenuti all'interno delle strutture. I detenuti da queste strutture prima o poi usciranno ed è chiaro che una cura farmacologica non adeguata piuttosto che dei dei problemi anche sanitari non adeguatamente presi in carico eh insomma emergeranno in un secondo momento quando le persone torneranno eh nella comunità. Eh abbiamo bisogno di affrontare questo tema partendo a nostro avviso dai dati motivo per cui abbiamo eh incentrato tutta l'inchiesta eh proprio sui dati della spesa per riuscire anche a quantificare eh e a affrontare questo problema in maniera ehm insomma circostanziata, scientifica eh in modo da arrivare davvero a eh risposte, problematizzazioni che siano reali e non siano basate sul sentito dire. Di salute mentale se ne parla tanto soprattutto con riferimento al carcere ma è spesso un sentito dire e manca un tentativo di dare una lettura eh generale. Grazie mille. Grazie a a Luca Rondi eh il dubbio o la riflessione che suscita anche questa inchiesta è quella che si affronti con gli psicofarmaci si affronti con gli psicofarmaci si affrontino scusate con gli psicofarmaci dei i problemi del del carcere. Eh c'è una domanda che mi ha colpito molto e che è contenuta all'interno dell'inchiesta posta da Fabrizio Starace eh che dice così stiamo sedando dei disturbi o dei disturbanti e mi ha colpito molto perché penso che sintetizzi molto bene non quello che sostenete con l'inchiesta ma il dubbio e e la riflessione che che sembra voler eh voler avviare questa inchiesta con questi dati. Vi ho parlato appunto di Fabrizio Starace perché vi chiederei ora Fabrizio Starace è il presidente lo ripeto presidente della società italiana di epidemiologia psichiatrica non può essere qui con noi oggi e non può essere nemmeno in collegamento però ci teneva a commentare questi dati e eh diciamo interviene anche nell'inchiesta e quindi ci ha lasciato una breve intervista, una breve dichiarazione che ascoltiamo. Io innanzitutto voglio esprimere eh gratitudine per eh questo tipo di eh riflessione di analisi che è stato proposto eh da altra economia su un tema di grande interesse che eh ha a che fare con due eh aree eh critiche della amministrazione pubblica. La prima è quella carceraria con tutte le sue contraddizioni dal sovraffollamento alla scarsità di personale in particolare personale di area educativa, la scarsità di progetti di eh recupero e riabilitazione a quello della assistenza sanitaria nelle carceri e eh nello specifico l'assistenza per la salute mentale. che eh purtroppo proprio per le limitazioni che eh segnalavo poc'anzi eh finisce con l'essere eh limitata a un intervento di tipo eh terapeutico eh farmacologico. Eh da questa prima riflessione deriva un primo eh elemento che dovrebbe essere all'attenzione di noi tutti cioè questi dati non eh dovrebbero essere frutto di un encomiabile lavoro di eh giornalismo d'inchiesta ma dovrebbero essere eh dati correnti a disposizione eh delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini, dei ricercatori per poter eh individuare aree di criticità e eh proporre sulla base delle evidenze eh dei meccanismi eh di miglioramento. Eh quello che l'inchiesta mostra è certamente preoccupante, un incremento eh di eh oltre cinque volte rispetto alla popolazione generale nell'uso eh dei neurolettici che sono eh una categoria di psicofarmaco che viene utilizzata appropriatamente nei disturbi in generale, nei disturbi eh psichiatrici maggiori come le psicosi, la schizofrenia, i disturbi deliranti, è eh un elemento da sottolineare che solo in parte può essere eh giustificato eh da eh un'altra riflessione cioè sulle caratteristiche della popolazione carceraria che come sappiamo è costituita in larga parte da eh persone che vengono eh recluse per motivi legati a una condizione di tossicodipendenza eh o meglio legati all'area delle eh tossicodipendenze. Tra questi certamente vi sono dei consumatori attivi. Oggi eh una delle eh delle sostanze eh una delle categorie di sostanze in rapidissima crescita è quella degli psicostimolanti, cocaina, crack e quindi evidentemente una persona che fa uso abituale che eh colta ad esempio in flagranza di reato viene associata a una casa circondariale ha eh spesso necessità di un intervento eh farmacologico per eh sintomi che possono manifestarsi e perdurare anche per eh diversi giorni e settimane dopo l'interruzione eh della assunzione. Eh la preoccupazione dicevo eh è fondata perché eh se non eh ci si colloca all'interno di questa eh ipotesi esplicativa e naturalmente con tutti i caveat necessari sul piano metodologico ad esempio quello relativo al turnover che eh immagino essere più elevato in una casa circondariale rispetto a una casa di reclusione eh al turnover delle delle persone che sono lì eh recluse eh evidentemente ci segnala che eh in una quota non eh marginale di eh situazioni eh quello che eh si eh opera è un intervento di tipo sedativo eh verso un malessere che eh si eh manifesta sotto forma eh di di sintomi e che può essere eh alleviato con un intervento con un intervento farmacologico. Ecco se tutti questi dati eh saranno confermati sul piano eh nazionale eh con una più ampia analisi che coinvolga tutti gli istituti e che consideri questi elementi metodologici io credo che dovremo seriamente interrogarci sulla funzione che eh le strutture gli istituti carcerari stanno svolgendo e soprattutto sulla funzione che eh le eh articolazioni e i presidi per la salute mentale in carcere stanno eh svolgendo. Nell'intervista che accompagna la pubblicazione di questi dati su altra economia eh citavo eh in maniera eh espressa eh esplicita eh la preoccupazione che piuttosto che eh un disturbo si stesse trattando un disturbante e questo caso sarebbe davvero estremamente preoccupante. Io innanzitutto voglio ringraziamo a distanza Fabrizio Starace e tornerei qui con con Alessio Scandurra coordinatore dell'osservatorio sul carcere di Antigone. In particolare a Scandurra vorrei chiedere di di parlarci della situazione delle degli istituti di pena per minori e magari anche delle esperienze di Antigone che è molto molto lunga all'interno di questi di questi istituti. Cosa avete potuto osservare e quali conclusioni o comunque considerazioni trarre anche alla luce di questi dati? Grazie. Eh io anzitutto eh come dire mi associo a quello a quanto diceva Starace. Sarebbe bello eh non essere costretti a a dipendere da da altre economie e da Luca Rondi per avere informazioni che indubbiamente sono essenziali per la costruzione di politiche pubbliche, di politiche di salute che diventano anche politiche di sicurezza eh sia rispetto agli adulti che rispetto ai minori ma invece non posso non aprire ringraziando eh Luca e altre economie per questo lavoro che ha fatto e che eh ci ha messo in condizione di conoscere cose che non conoscevamo. Eh Antigone visita regolarmente i centottantanove istituti per adulti e i diciassette istituti penali per minorenni italiani però questi numeri noi non ce li saremmo mai immaginati onestamente soprattutto negli PM un livello diciamo dati di questo tipo ci lasciano scomenti senza parole eh è innegabile che negli ultimi anni negli istituti penali per minorelli la principale difficoltà che ci viene segnalata dagli operatori comunque effettivamente è la condizione eh di salute eh e di salute mentale dell'ute di una parte ovviamente dell'utenza degli IPM sempre più spesso quando arriviamo in IPM ci viene detto qui il nostro problema è un un gruppo di persone un piccolo gruppo di persone che poi finisce per essere eh itinerante dentro il sistema nazionale per cui non sono persone che magari passeranno un lungo tempo in istituti in quella in quello specifico IPM poi magari vengono spostati in un'altra struttura eccetera ma che eh presentano livelli di eh anche di conflittualità o comunque di difficoltà di l'indisponibilità alla costruzione di un eh gli IPM a differenza degli istituti per adulti sono posti dove c'è una un'ampia offerta di attività un'ampia offerta di opportunità è molto diverso rispetto al carcere per gli adulti l'IPM ma ovviamente sono eh percorsi opportunità che vanno costruiti assieme al ragazzo con la collaborazione del ragazzo e eh creare questa relazione creare questo rapporto presuppone per esempio una condizione di eh ovviamente uscita da una situazione di acuzie la costruzione di un rapporto sereno con gli operatori sempre più ci viene detto che per una parte dell'utenza questo è molto difficile la eh e sempre più ci viene detto che questo come dire è un fatto eh rispetto al quale gli operatori comunque che si trovano davanti gli operatori con i quali devono confrontarsi e che eh è un fatto connesso a spesso difficoltà che non sono del sistema giustizia ma sono del sistema salute mentale sono legate a quello che succede fuori dagli IPM il nostro è un sistema che eh il nostro sistema della giustizia minorile è un sistema che usa molto poco il carcere e e predilige altre soluzioni le comunità per minori eh la messa alla prova una serie di misure che eh quando il ragazzo ha bisogno di uno di un sostegno psicologico psichiatrico spesso si trovano disarmate perché i servizi del territorio non sono adeguati e quindi il carcere eh diventa non per tutti diventa il carcere per coloro che non riescono a stare dentro queste alternative alla detenzione e molti non riescono a starci perché non hanno un accompagnamento adeguato dal lato sanitario e rispetto al al dilemma di fondo che un po' noi eh con cui abbiamo anche come dire affrontato questo dialogo con con Luca Rondi e che su cui ci arrovelliamo da tanto tempo cioè il carcere è un sistema eh dove dire dove c'è un un eccesso di disagio psichico dove c'è un un eccesso di eh di uso di psicofarmaci oggi secondo me ci troviamo davanti a una situazione in cui innegabilmente una percentuale enorme rispetto alla società libera della popolazione detenuta adulta e minorile a eh patologie di tipo psichiatrico o eh un forte disagio psicologico questo dato è innegabile a fronte di questo dato quando abbiamo questi numeri ci rendiamo conto che poi l'uso di psicofarmaci è totalmente sproporzionato quindi diciamo ci sono molte persone che hanno bisogno ma molte più persone che eh ai quali vengono somministrati in maniera sistematica eh psicofarmaci più o meno forti a fronte eh e lo citava Luca prima di altre risorse del tutto inadeguate le ore di servizio eh psichiatrico le ore di servizio psicologico non sono proporzionali non sono come dire adeguate rispetto alla presenza di disagio psichico che in carcere c'è e questo probabilmente si spiega in parte eh il ricorso al l'eccessivo ricorso al diciamo all'approccio farmacologico e tutto questo segna oggi nel sistema della giustizia minorile è in questo momento questa una delle grandi criticità uno dei grandi problemi e le comunità per minori che sono la colonna portante in qualche modo del sistema della giustizia minorile sono molti di più i ragazzi in comunità rispetto ai ragazzini PM nel nostro paese le comunità dei minori che hanno retto bene tutto sommato la stagione della pandemia quando era necessario tenere bassi i numeri di PM per il rischio di contagi eh e le comunità si sono dimostrati capaci di accogliere in quella fase oggi hanno una difficoltà enorme hanno carenze di personale a loro volta carenze di risorse e e mancano comunità diciamo specializzate per utenti con eh forme di disagio psichico e e questo ovviamente rimbalza su si scarica su una realtà del tutto inadeguata che è quella del carcere e questo probabilmente alla fine della alla fine della fiera spiega o comunque aiuta a spiegare questi numeri e un'ultima riflessione volevo dedicarla un pochino al a un quadro di fondo che si sta un po' delineando rispetto alla questione diciamo della giustizia minorile in Italia da quando io mi occupo di carcere il sistema della insomma quindi vuol dire di vent'anni il sistema della giustizia minorile è quello che ha sempre retto anche le pulsioni diciamo di ricorso al penale sempre più spinto eh il pugno duro il sistema della giustizia minorile era una buona pratica a livello europeo e e venivano da tutta da tutto il mondo a visitare le nostre strutture a parlare con i nostri operatori oggi per la prima volta eh col decreto Gaivano assistiamo a un passo indietro rispetto a questa storia eh si facilita l'accesso all'ipm per i ragazzi si facilita eh la si prolunga la presenza in in custodia cautelare si alzano le pene per alcuni reati tipicamente dei giovani e questo in quella stessa stagione come vi dicevo in cui non è tanto la criminalità dei giovani ad aumentare ma è il eh il loro disagio mi sono appuntato un po' di cose che ho trovato in in questi in questi mesi che riguardano non il carcere ma il fuori quello che succede ai ragazzi e ai giovani nel nostro paese e non solo fuori dal carcere eh l'istat eh con dati aggiornati da ah al duemilaventuno aspettiamo quelli del ventidue ma ci dice che eh gli adolescenti in cattive condizioni di salute mentale sono passati dal tredici virgola otto per cento del duemiladiciannove al venti virgola nove per cento del duemilaventuno eh un documento dell'OSCE dell'Unione Europea che quindi parla di tutta l'area eh dell'Unione Europea ci dice che in alcuni paesi eh la percentuale di giovani che riferiscono di avere sintomi di depressione è più che raddoppiata dal duemiladiciannove al duemilaventuno e la domanda di salute mentale è cresciuta e eh ovviamente mettendo in crisi i servizi di salute mentale stessi e nella primavera del ventuno e in quella del ventidue circa cinquanta per cento dei giovani europei ha riferito di avere eh esigenze di salute mentale che non venivano soddisfatte dal dal sistema sanitario del proprio paese e a fronte di questa situazione diciamo l'inasprimento delle pene e il pugno duro è chiaramente eh la peggiore delle risposte ma anche lasciare ragazzi in IPM eh senza senza cure adeguate comunque va nella stessa direzione. Grazie. Grazie ad Alessio Scandurra ora passerei la parola a Michele Michele Miravalle sempre del dell'osservatorio sul carcere di Antigone che ha collegato con noi in diretta. Sì grazie a tutti buongiorno a tutte e a tutte eh grazie scusate la non presenza fisica ma per me oggi mi era impossibile essere con voi eh io insitutto un doveroso ringraziamento a Luca Rondi e alla redazione di altra economia. Quello che viene presentato oggi è un come dire un esercizio di ecologia della politica forse anche perché in un contesto come quello delle politiche penali e penitenziarie dove spesso si ragiona eh senza dati o comunque oltre ai dati o volendo leggere le cose diverse rispetto a quello che i dati dicono noi credo che oggi facciamo invece un piccolo passo ovviamente sono più le domande che le risposte che danno questi dati ma io credo che sia molto importante iniziare a provare a ragionare su alcune cose il più possibili oggettive eh il più possibili da 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 ragionare insieme e dopodiché eh prendere le decisioni eh politiche conseguenze è una cosa che viene non viene quasi mai fatta. Noi come Antigone come osservatori di Antigone ci siamo accorti di un tema salute mentale eh diciamo crescente intorno al duemila e dodici duemila quattordici guarda caso gli anni in cui eh si chiudono gli OPG fortunatamente e mai troppo presto in come dire in questo paese e e quindi in qualche modo la gestione del disagio psichico all'interno delle delle carcere diventa un tema anche numericamente rilevante. Da allora è una 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 questione che abbiamo sentito ripetere da molti direttori, direttrici, comandanti ma anche gli agenti in sezione, gli operatori sanitari. Entrare ehm e la cosa è diventata sempre più allarmante anche negli ultimi negli ultimi anni. L'ingresso ad esempio in sezioni che noi definiamo sezioni sedate no? Eh ci sono sezioni del carcere per chi c'è stato e non parlo di un carcere in particolare ma in tutte le carceri del paese che sono stranamente silenziose. Magari sono le undici di mattina quando tutti noi siamo nel pieno dell'attività e eppure eh in quelle in quelle sezioni c'è silenzio, ci sono persone sdraiate sui letti eh ci sono scusate qui è mia figlia che interviene anche lei ehm ci sono sezioni persone sdraiate sui letti, ci sono giovani sdraiati sui letti. Ecco quelle sono le sezioni che a noi preoccupano di più perché significa in quelle sezioni c'è un uso che oggi abbiamo di cui o su cui oggi abbiamo dei dati ma che finora è stato solo eh era una percezione che avevamo probabilmente di una livello di contenzione chimica perché io non non ho paura di usare questa espressione eh troppo alto e sicuramente troppo eh troppo distante da quello eh che è la realtà. Questi dati ci dimostrano una cosa che il confine tra la cura e il controllo è un confine labile. Io credo che le ipotesi dietro questi dati possono essere due. Già le accennava all'inizio Luca ma io vorrei essere ancora più esplicito. Eh o noi stiamo sostanzialmente come sistema carcerario eh dando eh dosi massicce di farmaci con rilevanti effetti collaterali ad un basso numero di persone. Dosi che spesso i medici ci dicono sono fuori da qualsiasi tipo di dosaggio medio oppure stiamo, perché questo sono i numeri delle persone con patologia oppure stiamo dando quelle dosi anche a perso anche in assenza di una patologia psichica dichiarata. Quindi a molte persone che non hanno un disagio psichico eh ma che fanno uso fanno uso di psicofarmaci. Quindi un uso diffuso degli psicofarmaci. Questo ovviamente sarebbe l'ipotesi più grave, delle ipotesi che ci preoccupa di più. Perché questo vorrebbe dire che la chimica, che lo psicofarmano hanno un ruolo che non ha nulla a che vedere con la cura ma che è di tipo eh contenitivo e che ricorda molto una stagione che vorremmo definitivamente nel nostro passato che è la stagione eh manicomiale. Aggiungo ancora una una notazione di prospettiva. Quando si parla di salute mentale in carcere eh si ragiona mh troppo spesso di luoghi. Eh noi ci stiamo concentrando, stiamo concentrando il nostro dibattito eh secondo la 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 famosa domanda dove lo metto? Che è l'urgenza che noi percepiamo dagli operatori. Un'urgenza reale eh che noi non vogliamo eh non vogliamo sottostimare. Eh si è ragionato spesso di che forma, che ampiezza dovessero avere le residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza, le rems. Si è ragionato eh che forma e che ampiezza debbano avere le famose articolazioni per la salute mentale, i repartini psichiatrici delle carceri. Però io credo che se vogliamo vincere una sfida diciamo culturale che appartiene un po' al DNA dell'Italia che arriva da Franco Basaglia, da quella scuola eh triestina e dovrebbe continuare a vivere ancora e questo è quello che ci auguriamo per un po' di anni, noi dovremmo provare a immaginare di parlare non solo di luoghi ma anche di che cosa facciamo, di che tipo di intervento. Oggi questi dati ci dimostrano che l'intervento eh di salute mentale fatto all'interno degli istituti penitenziari italiani è un intervento troppo schiacciato sulla troppo schiacciato sulla farmacologia e credo che questo sia come dire il il dato che più di tutti viene fuori da questa inchiesta ed è un dato su cui tutti noi attivisti, giornalisti ma anche decisori politici dobbiamo iniziare a ragionare. Grazie. Grazie a Michele Miravalle e con diciamo lo spunto che che ci ha dato inizialmente parlando di operazione di ecologia politica passo la parola a Riccardo Maggi. Vi ringrazio perché a questo punto la definizione nostra che assumo è quella di operatore ecologico della politica e in realtà a me è sembrato importante e necessario quando il direttore di altra economia me lo ha proposto eh avere una presentazione di questa inchiesta ehm di Luca eh anche di questa inchiesta qui alla Camera dei Deputati per i motivi che avete detto in maniera molto molto chiara e molto forte nei vostri interventi. Ascoltandomi mi veniva a una battuta, una brutta battuta che come tutte le battute semplifica inevitabilmente e che però pensavo ai dati sugli arresti per reati connessi alle sostanze stupefacenti e ai dati sulle persone diciamo così tra virgolette per semplificare tossicodipendenti che entrano in carcere e quindi la battuta che mi veniva era li arrestiamo per droga e poi li droghiamo. Ora in realtà sappiamo che dietro questi dati c'è quella realtà molto più articolata che va interpretata che ci diceva Candurra prima però i dati sono anche netti, inequivocabili nell'indicare alcune cose. La prima è che c'è un trend, c'è una tendenza di aumento che riguarda più o meno tutte le strutture, tranne quelle poi è interessante anche andare a vedere le strutture in cui invece c'è un decremento, c'è una decrescita perché sono strutture nelle quali si sta si sta facendo un certo tipo di lavoro, penso ad esempio al carcere di Udile dove c'è diciamo un'attenzione particolare nonostante il sovraffollamento per una rete che si è creata attraverso il garante, attraverso la direzione, attraverso le attività che si svolgono lì all'interno e che quindi riesce a intervenire anche su questo trend. L'altro dato inequivocabile è che il carcere è patogeno. Ora in carcere chi le frequenta lo sa, avere delle prestazioni sanitarie è una delle cose più difficili e che spesso rende ancora di più un calvario la vita di chi è all'interno, ma anche quelle che a noi sembrano le più banali, il mal di denti, curarsi il mal di denti in carcere può diventare una cosa che si complica estremamente e che porta a delle conseguenze con le quali è davvero difficile convivere. Quindi secondo me anche in questo poi va ricercato l'abuso di determinate sostanze, di determinati psicofarmaci perché servono in generale a stordire, a sedare, a rendere la persona più compatibile con quel mondo a sé che è il carcere italiano. L'altra cosa che emerge a mio avviso è che questo aumento non corrisponde a uno sviluppo della capacità diagnostica e terapeutica che c'è all'interno delle carceri. Cioè non è che si sta sviluppando una capacità di individuare prima il disagio, il disturbo e di intervenire con un piano terapeutico. C'è semplicemente la tendenza maggiore a intervenire così un po' a pioggia e questa situazione mi fa pensare all'altro oggetto della vostra inchiesta che avevamo presentato anche quello qui alla Camera dei Deputati e cioè quello della situazione dei CPR dove se possibile la detenzione è persino più brutale e in qualche modo contraria ai principi fondamentali del diritto che non in un carcere perché è una detenzione in molti casi fine a se stessa perché noi sappiamo che quelle persone neanche potranno essere poi effettivamente espulse eppure subiscono quel tipo di trattamento. Due possibilità di intervento politico, almeno nell'immediato, di iniziativa politica io individuo e su queste mi impegno. La prima è immediatamente domani di rivolgere al Ministro della Giustizia e al Ministro della Salute, della Sanità, una interpellanza urgente. Noi siamo ancora in attesa della risposta di piante dosi su quella sui CPR e appena adesso ne avremo l'occasione trasformeremo queste domande, quindi sia quella sui CPR sia quella sulle carceri in question time o in interpellanze urgenti alle quali non potranno non rispondere perché credo che arrivate a questo punto, cioè se chi ha un ruolo di governo e un ruolo istituzionale non sente il dovere di fronte a questa situazione di dare delle risposte dovremo utilizzare quei pochi strumenti che ci sono rimasti da un punto di vista del controllo parlamentare per obbligarli a una risposta. L'altra via di iniziativa, in attesa diciamo di diventare tutti noi più efficaci nell'aumentare la presenza di operatori e anche quindi di operatori medici, di psicoterapeuti, psichiatri, psicologi in carcere, che è una parte consistente del problema, è quella di tentare di riformare il carcere. Da questo punto di vista, e uso questa occasione come dire per annunciarlo, noi presenteremo qui il 7 di novembre insieme a tante persone che ci hanno lavorato, alla Società della Regione, Franco Corleone, a diversi garanti regionali, una proposta di legge per istituire delle case di reinserimento sociale, cioè dei luoghi nei quali possano terminare di scontare la pena, chi deve scontare una pena residua o ha una pena combinata inferiore a un anno, e sono migliaia di persone nel nostro paese, ma che siano luoghi tutti volti al reinserimento sociale. Perché se c'è una cosa che oggi sicuramente non si può più fare e non si può più ottenere nelle carceri italiane, esattamente tranne rare eccezioni nelle quali c'è un'efficienza particolare del trattamento e dei servizi, è esattamente il reinserimento sociale, cioè la finalità costituzionale della pena. E quindi noi crediamo che un modo per riformare il carcere sia cominciare a svuotarlo, creando dei luoghi diversi che abbiano questa vocazione, che siano basati su piccoli numeri, tutti volti appunto alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo, alla formazione in senso ampio. Così probabilmente riusciremo anche a far uscire le persone da una condizione che è, ripeto, patogena, che è una condizione nella quale ovviamente tensioni, condizioni disumane nelle quali si vive, creano e favoriscono la slatentizzazione di problemi e di disturbi, o comunque creano delle tensioni tali rispetto alle quali la stessa amministrazione penitenziaria e l'amministrazione della salute in carcere agisce nel modo in cui questa bella e però anche molto angosciante inchiesta ci racconta. Grazie. Grazie a Riccardo Maggi. C'è qualche minuto ancora per delle domande, se qualcuno vuole porre delle domande. Non so se l'autore dell'inchiesta posso chiudere, se volete aggiungere qualcosa. Benissimo, allora ringrazio tutti i presenti, anche a nome di tutte le persone che sono qui con me e spero che se non l'avete ancora letta la leggiate. Una bellissima inchiesta, fine pillola mai, inchiesta sull'abuso di psicofarmaci nelle carceri italiane. Grazie a tutti e a tutte. Grazie.